L'apparato urinario è costituito da diversi organi. Il rene, che si occupa dell'operazione di filtraggio, le vie escretrici dell'urina, che sono strutture diverse che si collocano all'interno del rene, ma anche al di fuori di esso. Tra queste vie escretrici annoveriamo i calici renali, che si collocano in una regione del rene detta seno renale, cui fa seguito l'uretere. L'uretere è un notte-escretore pari che comunica con la vescica urinaria. La vescica urinaria si occupa del raccoglimento del filtrato e si colloca a livello della pelvi e può arrivare nella fase di riempimento ad invadere la cavità addominale. L'uretra invece è distinguibile in femminile e maschile, sia per la dimensione, poiché nella femmina è molto più breve, ma anche per il fatto che per quanto concerne il maschio le due vie, urinaria e genitale, sono comunicanti a questo livello. Tutti gli organi citati sono contenuti nella cavità addominopelvica e molti altri organi si collocano in quest'area. Quindi possiamo dire che tale cavità risulta delimitata superiormente dal muscolo del diaframma, inferiormente dai diaframmi pelvico e urogenitale, pelvico posteriormente e urogenitale anteriormente, mentre posteriormente viene delimitata dalla parete addominale posteriore e anteriormente dalla parete addominale anteriolare. Tale area è avvolta e protetta dalla presenza di un foglietto di rivestimento detto peritoneo, che avvolge tutte queste strutture interne al livello della cavità addominale e si tratta di una struttura di tipo epiteliale. In diversi organi dell'apparato urinario ricordiamo la presenza di strutture essenziali per il filtraggio e il trasporto dei liquidi, in particolare l'epitelio di transizione, tra queste è una delle più significative. L'urina definitiva che viene espulsa dal nostro corpo prevede un processo di sintesi particolarmente complesso che interessa i sistemi di ultrafiltrazione, di riassorbimento e di espulsione dal plasma sanguigno. Una insufficienza renale può generare una serie di patologie molto diverse, in particolare l'iperuricemia e queste patologie possono essere tali da essere sanate tramite terapianto o tramite dialisi. L'epitelio di transizione è tipicamente presente a livello della vescica ma non solo, è elastico, è presente infatti la capacità di allargamento ma è anche impermeabile all'urina. Infatti tutte le sostanze nocive, se così non fosse, potrebbero essere riassorbite a livello delle cellule vicine. A livello renale si colloca nella parte escretiva del rene stesso ma anche in molti altri organi dell'apparato urinario, quindi questo epitelio di transizione è particolarmente specifico a livello dell'apparato urinario ed è essenziale per il corretto funzionamento di questo apparato. Il rene è un organo pari dell'apparato urinario, situato nella parte postero superiore della cavità addominale in posizione retroperitoneale nella loggia renale. I reni presentano un colorito rosso-brunastro e una forma a fagiolo con un peso medio di circa 150 grammi, una lunghezza di 12 centimetri, una larghezza di 6,5 centimetri e uno spessore di 3 o 4 centimetri. I mezzi di fissità del rene sono costituiti dall'alloggia renale, la capsula di posa del rene, i vasi renali e il comportamento del peritoneo e dei visceri addominali. In ciascun rene si distingue una faccia anteriore e una posteriore, un polo superiore e uno inferiore, un margine mediale e uno laterale. I rapporti del rene sono mediati dall'interposizione della capsula di posa e dei foglietti della fascia renale. La faccia posteriore è il rapporto con la dodicesima costa. La faccia anteriore è coperta dalla fascia pre-renale ed è in rapporto con gli organi della cavità addominale. In particolar modo il rene destro, attraverso il peritoneo con il lobo destro del fegato su cui lascia l'impronta renale e con cui vi può essere il legamento epato-renale. La flessura destra del colon, le anze digiunali e la seconda porzione del duodeno con cui si lega tramite il legamento duodeno-renale. Il rene sinistro invece è in rapporto con la milza, la coda del pancreas e i vasi lienali. La flessura sinistra del colon, la prima porzione discendente del colon, quindi la flessura duodeno-digiunale, le anze del digiuno e la parete dello stomaco per mezzo della borsa o mentale. Il polo superiore di ciascun rene è ricoperto dalla rispettiva iandola surrenale, il polo inferiore dista dalla cresta iliaca di 5 cm per il rene di sinistra e di 3 cm per il rene di destra. Il margine laterale è il rapporto a destra con il fegato e a sinistra con la milza e il colon discendente. Il margine mediale presenta l'ilo renale che dà passaggio ai vasi, ai nervi e alla pelvi renale. L'ilo dà accesso ad una cavità chiamata seno renale che accoglie i calici minori e maggiori, parte della pelvi renale e le diramazioni dell'arteria renale, le radici della vena renale e i nervi, tutti circondati da tessuto adiposo che continua con il grasso per il renale della capsula adiposa, oltre che con l'ilo il margine mediale entra in rapporto con la vena cava inferiore a sinistra e con la orta addominale a destra. I reni sono altamente vascolarizzati, infatti ricevono il 20% del sangue e dell'agittata cardiaca tramite le arterie renali, che sono rami diretti della orta addominale. Il rene è un organo parenchimatoso avvolto da una capsula fibrosa di tipo connettivale, che a livello dell'ilo si addensa e si addentra per rivestire le pareti del seno renale, fondendosi con la tonaca ventizia dei calici e dei vasi sanguigni. Fra la capsula e il parechima vi è un sottile strato di miocellule lisce, che costituiscono la tonaca muscolare. Il parechima renale è costituito da due zone distinte, l'amidollare e la corticale. Abbiamo poi la pelvi renale, che è la prima porzione delle vie urinarie. La sua funzione è quella di raccogliere l'urina, proveniente dai calici maggiori, convogliandola nell'uretere. La pelvi renale rappresenta appunto l'entità anatomica che raccoglie l'urina, prodotta dal parechima renale, convogliandola nell'uretere. Benché vi siano varianti interindividuali, la pelvi renale ha una forma grossolanamente assimilabile ad un elistoide, in cui l'asse maggiore giace lungo l'asse maggiore del rene. La pelvi renale è ricoperta da un epitelio di transizione, o urotelio, ed è un sottile strato epiteliale che giace su di una robusta membrana basale, ancorata alla tonaca muscolare. A livello delle papille renali, la membrana basale si continua direttamente con il tessuto stromale del rene. Abbiamo detto quindi che il parechima renale è costituito da due zone distinte, la midollare e la corticale. La zona corticale avvolge le piramidi renali, separandole tra di loro per mezzo delle colonne renali che raggiungono il seno renale. Nella corticale si distinguono una parte radiata e una parte convoluta. La parte radiata è costituita da raggi midollari che originano dalla base delle piramidi e percorrono radialmente la corticale, assottigliandosi sempre di più fino alla cortex corticis. La parte convoluta occupa gli spazi compresi tra i raggi midollari e forma le colonne renali. Inoltre costituisce la cortex corticis che è compresa tra l'apice dei raggi midollari e la superficie del rene. L'aspetto granuloso della parte convoluta è determinata dalla presenza di corpuscoli renali che però sono assenti nella cortex corticis. La disposizione della zona midollare e della corticale del rene permettono una divisione in lobi e lobuli. Il lobo è una porzione di parenchima costituita da una piramide renale e dalla corticale ed essa annessa a partire dalla colonna renale fino alla superficie dell'organo. Il lobulo è una porzione di parenchima costituita da un raggio midollare della corticale e la parte convoluta che lo circonda. È delimitato dalle arterie e dalle vene interlobulari che percorrono radialmente la zona corticale. La zona midollare invece è profonda ed è costituita da 8-18 piramidi renali in numero variabile per ogni rene che con la loro base si rivolgono verso la corticale mentre l'apice continua nel senso renale costituendo le papille renali. L'estremità libera delle papille presenta i forami papillari che corrispondono allo sbocco dei dotti papillari che insieme ai dotti collettori percorrono le piramidi nella direzione dell'asse determinando il caratteristico aspetto striato della zona midollare. Ciascuna papille è circondata alla base da un calice minore e più calici minori si uniscono in calici maggiori per poi formare la pelvi renale che continua negli ureteri. Quindi partendo dall'esterno troviamo la zona corticale in cui sono presenti i glomeruli più all'interno dell'organo troviamo la parte midollare che è costituita dalle piramidi renali e vanno poi a formare i calici minori che si uniscono in calici maggiori per formare la pelvi renale che continua appunto negli ureteri. Il nefrone è l'unità morfo funzionale del rene costituita da una serie di porzioni che in particolare vengono descritte a partire dall'area di filtrazione sanguifera a quella di produzione dell'urina vera e propria. Nel dettaglio abbiamo che il corpuscolo renale è costituito da un microcircolo arterioso tra due arteriole circondato dalla capsula di Bowman. La capsula di Bowman è una struttura epiteliale pavimentosa ovvero un groviglio o un accumulo di capillari. A seguire vi è il tubulo prossimale classificabile in una parte contorta ed una rettilinea. Successivamente incontriamo l'anza di L che è caratterizzata dalla presenza di due braccia nell'ordine di passaggio dell'urina sono discendente ed ascendente. A seguire vi è il tubulo distale che come il precedente presenta una componente contorta ed una rettilinea. Riassumendo, il nefrone è quindi costituito da una capsula di Bowman che è un groviglio di capillare collegata ad un tubulo prossimale che presenta all'inizio una parte contorta e poi una rettilinea collegata all'anza di L. L'anza di L è costituita da una parte discendente e poi una ascendente e quest'ultima è collegata al tubulo distale che presenta anch'esso una parte contorta e una rettilinea. Possiamo dire che complessivamente tali strutture si individuano in un numero di circa un milione per ciascun rene e possono complessivamente produrre fino a 220 litri di pre-urina al giorno con una media di 180 litri di sangue filtrati in un giorno. Il nefrone si localizza nel complesso della sua struttura sia nella parte midollare che nella parte corticale ma i corpuscoli si collocano unicamente nella parte profonda corticale mai nella midollare né nella parte più prossimale dalla capsula fibrosa della corticale. I nefroni possono essere classificati in base alla posizione del corpuscolo rispetto alla midollare in nefrone corticale e nefrone iux tramidollare. Il nefrone corticale ha un corpuscolo più distale dalla midollare e presenta un'ansa di L molto corta mentre invece il nefrone iux tramidollare ha un corpuscolo che si colloca vicino alla midollare e ha un'ansa di L che è molto lunga. Gli ureteri sono una coppia di piccoli tubi che collegano i reni alla vescica urinaria. Costituiscono un collegamento vitale nel tratto urinario consentendo all'urina di defluire dai reni per essere immagazzinata nella vescica. Gli ureteri sono sottili e sono tubi muscolari che si trovano all'interno della cavità addominopelvica. Ogni uretere è collegato al rene e nasce dalla pelvi renale. Inizia come un tubo di circa 10 mm di diametro assottigliandosi fino a 1-2 mm mentre scende attraverso la cavità addominopelvica. Come i reni, gli ureteri sono organi retroperitoneali che attraversano la parete della cavità addominopelvica posteriormente al peritoneo. Gli ureteri sono lunghi circa 25-30 cm e il sinistro è leggermente più lungo di quello destro questo perché il rene sinistro si trova sopra rispetto al rene destro. Con un diametro di pochi millimetri gli ureteri variano da un'estremità all'altra ampliandosi vicino ai reni e restringendosi in prossimità della vescica urinaria. Anche se la gravità è in grado di spingere l'urina dai reni verso la vescica questo non può accadere quando siamo sdraiati e per questo motivo gli ureteri hanno un ruolo attivo nel sistema urinario. Grazie alla peristalsi, ovvero la contrazione della muscolatura liscia gli ureteri assicurano il flusso unidirezionale dell'urina verso la vescica. Qui la pressione della vescica gonfiata schiaccia le estremità impedendo all'urina di ritornare ai reni. In questo modo le scorie vengono eliminate nel modo più efficiente possibile e si evita che le infezioni batteriche raggiungano i reni. La vescica urinaria è l'organo che raccoglie l'urina in arrivo dall'uretere e si tratta di un organo di tipo muscolo membranoso, impari, cavo e si definisce il serbatoio provvisorio dell'urina e presenta una capacità scrivibile ad un quarto di litro in quanto a partire da tale quantità si percepisce lo stimolo. Quindi quando si riempie di 250 ml di urina si inizia a percepire lo stimolo della minzione. La sensazione di stimolo è molto variabile e normalmente possiamo sopportare un riempimento che arrivi ad un litro. Al di sopra di tale misura lo stimolo può diventare anche doloroso. La massima distensibilità di quest'organo arriva a 2-3 litri e un tale riempimento non si verifica mai a meno di deformazioni patologiche della percezione dello stimolo. In ogni caso con l'espansione l'organo si porta nella cavità addominale e la forma e la dimensione della vescica variano in base allo stato di riempimento della vescica stessa. In particolare possiamo conoscere due momenti distinti vescica vuota e vescica piena. A vescica vuota anche se la cavità non è mai completamente vuota possiamo dire che l'organo in questione presenta il suo massimo svuotamento. Ha una forma quindi triangolare a base posteriore che può sembrare un po' la forma di una prua di una barca. Il lume si presenta come una fessura di dimensioni minime e si colloca nella pelvi nell'età adulta mentre fino a 8-9 anni si può collocare più in alto. A vescica piena invece assume una forma sferica e si porta superiormente alla sinfisi pubblica. In alcuni casi può essere utile tale posizione per svuotare la vescica tramite una puntura sovrapubblica che prevede la penetrazione del lago attraverso la struttura della linea alba sopra la sinfisi pubblica. Rispetto alla vescica maschile presa come parametro descrittivo possiamo dire che la vescica femminile appare più appiattita in senso antero-posteriore e sviluppata trasversalmente mentre invece la vescica neonatale è allungata in senso longitudinale con asse maggiore verticale e risulta per gran parte sovrapubblica e aderente alla parete addominale anche a vescica vuota. L'uretra è un canale muscolo-mucoso impari e mediano che conduce l'urina dalla vescica all'esterno in maniera controllata. Le due uretre, quella maschile e femminile sono sicuramente molto diverse tra loro sia per la lunghezza poiché quella maschile è più lunga ma anche per i rapporti che l'uretra stessa prende a livello pelvico e perineale e dei genitali esterni. Anche la funzione è diversa poiché nel maschio l'uretra è associata all'apparato genitale. L'uretra è quindi il canale di forma tubulare che connette la vescica al cosiddetto meato urinario o orifizio uretrale esterno che serve per l'espulsione dal corpo di alcuni fluidi biologici soprattutto l'urina. In anatomia il termine meato indica un orifizio che collega l'interno del corpo all'esterno e attraverso cui in alcuni casi passa del liquido. Nell'uomo l'uretra è lunga circa 15-20 cm attraversa prima la prostata e poi il pene che è l'organo riproduttivo maschile e termina in corrispondenza della punta del glande che è l'estremità distale del pene. Per semplificare lo studio dell'uretra gli esperti di anatomia la suddividono in sezioni. Abbiamo tre porzioni diverse ovvero l'uretra prostatica l'uretra membranosa e l'uretra cavernosa. L'uretra prostatica può essere divisa in sezione pre-prostatica e sezione prostatica vera e propria. Nella sezione pre-prostatica l'uretra nasce dall'interno della vescica in una regione specifica che prende il nome di collo della vescica e in cui vi risiede il cosiddetto orifizio uretrale interno. La sezione pre-prostatica è la parte di uretra compresa tra il collo della vescica e lo sfintere uretrale interno. La sua lunghezza è variabile da 0,5 cm in alcuni individui a 1,5 cm in altri. A segnare il confine tra la sezione pre-prostatica e la successiva sezione prostatica vi è l'uretra ovvero il punto in cui l'uretra comincia ad attraversare la prostata. La sezione prostatica è la parte di uretra che attraversa la prostata quindi e grazie a tale attraversamento la prostata comunica con l'uretra e vi mette quando richiesto i fluidi necessari all'attività riproduttiva. A garantire il passaggio dei fluidi riproduttivi dalla prostata all'uretra vi sono diversi tipi di canali tra cui i dotti eiaculatori e i dotti prostatici. I dotti eiaculatori immettono nel condotto uretrale gli spermatozoi i quali provengono dai vasi deferenti dei testicoli e il fluido prodotto nelle vescicole seminali. I dotti prostatici invece versano nell'uretra il liquido seminale vero e proprio il quale mescolandosi con gli spermatozoi e il fluido delle vescicole seminali forma lo sperma. Successivamente abbiamo la sezione membranosa quindi l'uretra membranosa è il tratto di uretra che risiede tra il cosiddetto pavimento pelvico e il cosiddetto spazio perineale profondo è lunga una o due centimetri è particolarmente stretta e la sezione membranosa passa per lo sfintere uretrale esterno. A questo punto vale la pena ricordare che lo sfintele uretrale esterno e lo sfintere uretrale interno sono strutture muscolari che controllano l'emissione di urina. Tuttavia, mentre il primo quindi quello esterno è volontario il secondo ovvero lo sfintere uretrale interno è involontario. L'uretra cavernosa invece viene detta anche sezione spongiosa è il tratto terminale dell'uretra ed è la sezione che attraversa tutto il corpo spongioso del pene e termina in corrispondenza del glande con il meato urinario. Per ovvi motivi l'uretra maschile si allunga in pari passo con la crescita corporea individuale in genere nei neonati ha una lunghezza media di circa 6 cm mentre in età puberale è lunga non più di 12 cm circa al termine della pubertà è ovviamente sviluppata in maniera quasi definitiva. L'uretra femminile è lunga in media a 4 cm è molto più corta quindi dell'uretra maschile e il suo percorso verso il meato urinario inizia in corrispondenza del collo della vescica dove risiede il cosiddetto orifizio uretrale interno attraversa il trigono 1 urogenitale o diaframma urogenitale e adagiandosi alla parete anteriore della vagina sblocca nella parte superiore del vestibolo di questa con ovviamente l'orifizio uretrale esterno. alcuni testi di anatomia riportano che al di là della minore lunghezza che chiaramente comporta anche un percorso diverso l'uretra femminile si distingue da quella maschile per la posizione degli sfinteri uretrali infatti se nell'uomo lo sfintere uretrale interno localizza prima della prostata e quella esterna dopo la prostata nella donna i due suddetti sfinteri sono disposti quasi in successione quindi molto vicini tra di loro gli anatomisti riconoscono nell'uretra femminile tre segmenti o sezioni il segmento intramurale o intravescicolare il segmento libero e il segmento vaginale il segmento intramurale va dall'orifizio uretrale interno allo sfintere uretrale interno come nell'uomo mentre il segmento libero è il tratto che comincia da dopo lo sfintere uretrale interno passa attraverso il trigono urogenitale e termina prima di entrare in stretto rapporto con la vagina infine il segmento vaginale è la sezione intimamente aderente alla vagina che termina con l'orifizio uretrale esterno l'urina si forma nei nefroni e passa dal dotto collettore nella pelvi renale o vaginetto renale che è paragonabile ad un imbuto dopo per peristalsi si sposta nell'uretere verso la vescica e infine nell'uretra il sangue entra nel rene attraverso l'arteria renale e va al tubulo afferente che entra nel glomerulo e poi esce attraverso il tubulo efferente questi capillari peritubulari che escono dal tubulo efferente convergono a formare una venula e passa a una piccola vena per poi finire nella venula renale le parti del nefrone altamente permeabili all'acqua possiedono un numero elevato di acquaporine ovvero una classe di proteine di membrana che costituiscono i canali dell'acqua esse sono abbondanti nelle cellule del tubulo prossimale e nel tratto discendente dell'ansa di L ma non in quello ascendente il processo della formazione dell'urina è costituito da quattro fasi la filtrazione nella quale fase nella quale il sangue priva il filtrato quindi il liquido che entra nella capsula di proteine grandi il filtrato ha la stessa composizione chimica del plasma successivamente avviene la secrezione alcune molecole del sangue vengono immesse nel filtrato e in questo modo vengono eliminate dalla corrente sanguigna sia le sostanze dannose ingerite insieme agli alimenti sia i farmaci come la penicillina dopo filtrazione e secrezione avviene il riassorbimento ovvero l'acqua che entra nella filtrazione va di nuovo nei capillari per i tubulari successivamente vi è la fase di escrezione l'urina quindi lascia il nefrone e passa nella pelvi renale l'escrezione può essere anche definita come minzione la minzione è l'atto vero e proprio dell'escrezione infatti con il termine minzione si intende l'eliminazione dell'urine nell'uretra ci sono due sfinteri uno liscio autonomo che i bambini posseggono esclusivamente è uno striato scheletrico volontario che serve per trattenere e si trova nell'adulto quindi la formazione dell'urina riassumendo avviene in quattro fasi filtrazione secrezione riassorbimento ed escrezione inoltre l'eliminazione dell'acqua attraverso l'urina è il principale meccanismo di regolazione dell'acqua corporea le diverse regioni delle pareti del tubulo renale delle pareti del dotto collettore hanno permeabilità differenti all'acqua ai sali e all'urea alcune regioni delle pareti del tubulo renale contengono proteine di membrana che trasportano attivamente i sali fuori dal tubulo nel tubulo prossimale che percorre il tratto discendente ascendente dell'anza di L il filtrato è isotonico rispetto al plasma e quindi vi è lo stesso rapporto di acqua soluto nell'anza di L invece quest'acqua è ipertonica quindi il filtrato ha più soluto e in prossimità del tubulo distale infine è ipotonica quindi nel filtrato vi è presente più acqua tutti questi meccanismi puntano a diluire o concentrare le urine l'urina è il prodotto finale dell'escrezione renale si presenta normalmente come un liquido limpido giallognolo di odore penetrante talora lievemente aromatico a reazione variabile in condizioni fisiologiche acida nelle ore notturne alcalina dopo alimentazione mista o patologiche quindi l'urina può diventare acida negli stati febbrili o di disidratazione può diventare alcalina nelle infezioni delle vie urinarie e dopo vomito profuso l'urina contiene componenti inorganici come ioni sodio potassio calcio magnesio eccetera e organici quindi componenti organici sono urea acido urico amminoacidi eccetera l'urina rappresenta il principale mezzo attraverso il quale l'organismo si libera delle scorie dei processi metabolici e delle sostanze estranee o tossiche da ciascun rene essa viene rilasciata in un dotto che è l'uretere il quale confluisce nella vescica urinaria dove viene raccolta e conservata sino al momento della sua emissione all'esterno tramite un condotto impari che è l'uretra tale emissione viene denominata minzione e viene regolata da due muscoli posti alla base dell'uretra uno è volontario l'altro controllato dal sistema nervoso autonomo è dunque in grado di provocare l'emissione di urina in base a meccanismi riflessi il volume delle urine emesse nell'arco delle 24 ore pur potendo subire notevoli variazioni il rapporto sia ai liquidi ingeriti sia alla sudorazione si aggira in genere attorno ai 1000-1500 centimetri cubici l'urina è composta per il 95% di acqua e per il resto di sostanze organiche e sali inorganici per quanto riguarda le sostanze organiche il composto che si ritrova in maggiore quantità è l'urea ed è il prodotto ultimo del metabolismo delle proteine che si produce per deaminazione degli amminoacidi l'eliminazione giornaliera di urea è in media di 30 grammi ma può variare in funzione del tipo di alimentazione aumenta con la dieta iperproteica ovviamente e diminuisce con una dieta vegetariana dopo l'urea la sostanza azotata più abbondante nell'urina è la creatinina la creatinina deriva dalla degradazione di un composto presente nel tessuto muscolare e viene excreta in quantità variabile a seconda dello sviluppo e dell'attività delle masse muscolari l'altro componente è l'acido urico che si ottiene metabolizzando gli acidi nucleici la cui quantità dipende da quanto l'alimentazione è ricca di composti purinici infatti le basi puriniche sono componenti degli acidi nucleici inoltre nell'urina si trovano pigmenti tra cui tracce di bilirubina idrosolubile prodotta dal fegato l'urocromo che conferisce il caratteristico colore giallo e numerose sostanze di origine ormonale il cui dosaggio rispecchia l'entità della loro produzione da parte delle rispettive ghiandole endocrine i sali inorganici presenti nell'urina sono rappresentati essenzialmente da cloruri fosfati e solfati la composizione dell'urina nel corso di numerose patologie è variabile in quanto possono comparire sostanze che normalmente non sono presenti oppure possono aumentare le concentrazioni di sostanze che di norma compaiono solamente in tracce l'eliminazione fondamentale l'attività fondamentale del rene è l'eliminazione delle sostanze inutili dannose o in eccesso come i prodotti terminali del metabolismo come urea eccetera oppure prodotti anomali derivati dal metabolismo intermedio come i corpi chetonici o altri metaboliti intermedi di varie reazioni inoltre deve secernere anche sostanze medicamentose oppure tossiche o i loro prodotti di trasformazione oppure l'urina deve secernere sostanze che pur essendo normali costituenti del sangue vi abbiano raggiunto una concentrazione eccessiva come il glucosio i sali minerali e i sali organici modificazioni della composizione del volume dell'urina derivano da patologie a livello del rene o di altri organi oppure per alterazioni a livello metabolico le alterazioni legate a variazione del pH nell'urina sono riassumibili in due forme principali ambedue sintomo di insufficienza renale l'isostenuria e l'ipostenuria l'isostenuria viene definita come l'emissione di urina a concentrazione costante di solito con densità intorno ai mille e dieci grammi su centimetro cubico ed è legata alla perdita da parte del rene della capacità di concentrarla o diluirla in rapporto alle necessità dell'organismo l'ipostenuria è la costante eliminazione di urina a basso peso specifico per inadeguato potere di concentrazione dei reni malati in pratica in caso di insufficienza renale altre modificazioni riguardano la presenza nelle urine di sostanze che normalmente sono assenti oppure presenti in quantità non dosabili oppure la diminuita concentrazione di una sostanza rispetto ai valori normali si definiscono infatti emoglobinuria la presenza di emoglobina glicosuria quella di glucosio proteinuria la presenza di proteine nelle urine e maturia la presenza di sangue nelle urine urobilinuria la presenza di urobilina e calciuria la presenza di calcio nelle urine ipocloruria e la ridotta concentrazione degli ioni cloro eccetera talvolta la comparsa nelle urine di particolari sostanze è indicativa di una malattia precisa esistono poi variazioni del volume dell'urina quando scende al di sotto dei 600 cm3 o supera i 2000 cm3 al giorno in questo caso si parla rispettivamente di oliguria e poliuria quindi quando la quantità di urina durante il giorno scende a di sotto dei 600 cm3 si parla di oliguria quando invece sale sopra i 2000 cm3 al giorno si parla di poliuria una variazione una variazione è possibile anche nel rapporto tra emissione di urina diurna e notturna infatti la nicturia è l'aumento della quantità di urina emessa nella notte rispetto a quella emessa durante il giorno sono ovviamente importanti da identificare alcuni termini come l'edema che è l'accumulo di liquidi negli spazi interstiziali ma poi andiamo anche a definire le diverse definizioni definizioni appunto per quanto riguarda il volume dell'urina o per quanto riguarda la loro la sua composizione abbiamo infatti la nuria che è una produzione di urina assente o inferiore a 100 ml in 24 ore che è esattamente il contrario della poliuria poiché la poliuria è un aumento della quantità di urine nelle 24 ore l'oliguria è una ridotta escrezione urinaria minore di 400 ml in 24 ore mentre poi la disuria è una minzione lenta è difficoltosa la ritenzione urinaria è invece l'incapacità di svuotamento della vescica mentre la minzione è l'espulsione dell'urina dalla vescica attraverso l'uretra l'incontinenza invece è la capacità di trattenere l'urina quindi in alcuni casi si perde proprio lo stimolo della minzione di conseguenza l'urina non può essere trattenuta la stranguria è una minzione lenta e dolorosa così come la disuria che è una minzione lenta e difficoltosa quando invece andiamo a parlare di amaturia indichiamo delle urine nelle quali è presente del sangue tant'è che può cambiare anche il colore dell'urina stessa diventando appunto di colore rosso di colore